La sesta edizione di Fabriano in acquarello, un breve escurso su quello che è l'acquarello e perché l'acquarello a Fabriano, il cappello generale. Poi lasceremo i dettagli ad Anna, come ogni anno ha fatto un lavoro eccezionale, portando nella nostra città centinaia di artisti di 40 paesi diversi, alcuni per la prima volta che saranno presenti qua a Fabriano. Ha fatto sì che Fabriano diventasse il centro attrattivo di tutte le scuole acquarellistiche internazionali, questo ci rende orgogliosi e grazie alla collaborazione che c'è sempre stata tra l'amministrazione, tra l'ente pubblico ed i privati, che è sempre la chiave di volta per ottenere dei risultati apprezzabili e duraturi nel tempo. Nella fattispecie Anna Massinissa, che rappresenta in arte e tutto il mondo che ruota attorno a questa associazione, che è un supporto continuo per l'amministrazione, questo supporto che trova esaltazione in questa manifestazione, la nostra città già nota per la carta, ora diventa nota anche per questa particolare tecnica artistica, cioè per gli artisti che lavorano sull'acquarello, a cominciare da Pasquette che è stato il primo nome che è venuto a Fabriano per arrivare a Pedro Cano, per arrivare a Gorlini per rimanere un po' in Italia, Pedrazzini e dicendo che ci sono 40 diversi paesi significa che veramente questa città è diventata il centro attrattivo, il luogo di incontro per tutti coloro che hanno nel cuore e nelle mani la carta Fabriano e la tecnica dell'acquarello dell'aspetto, diciamo così, culturale diventa anche un aspetto economico perché avere qua mostre e persone che conoscono la nostra città diventano i nostri ambasciatori all'estero e generano per cui un circuito di persone che vogliono venirci a visitare, che vogliono tutto sommato rendere eterni sulla carta gli scorci della nostra città. Questi quattro giorni dimostra che non sono localizzate, puntualizzate solo in un luogo, ma che coinvolgeranno diversi siti della nostra città rendendo tangibile il fatto che è tutta la città che partecipa a questo evento che secondo me è per quest'anno l'evento dell'anno.